Ciao a tutti amici benvenuti negli ultimi video di Robin Hood in Agenda of Sherwood ragazzi la situazione è peggiorata tantissimo perché praticamente è successo che il gioco si è buggato perché quando tu fai l'ultima missione di Robin Hood quello che state vedendo adesso non sono i miei avvataggi magari fossero così ma sono di un save game che non è manco completo al 100% quindi ragazzi è tutto un bordello lasciate perdere quello che io voglio farvi notare è che noi dovremmo fare la missione 12 la 13 la 14 e la 15 quindi da questo momento in poi poi vedrete queste missioni senza gli spezzettamenti di foresti di Sherwood se tutto va male perché non so come cazzo devo gestire sta cosa quindi vedrete queste missioni perché il gioco a un certo punto mi dice pure nella versione quella che io ho con l'italiana anche insomma che Robin Hood non c'è è scomparso quindi dopo aver fatto questa che ora vi la spiego the treasure noi dovremmo fare Robin captured che è l'intermissione noi di Robin sono catturato dopo averla missione escape il problema è che c'è un problema di fondo dove praticamente non c'è Robin Hood non ci attiva la missione di Robin Hood quindi dopo aver fatto 3-4 missioni di ambush ti trova direttamente Robin Hood nella foresta di Sherwood e quindi non ti fa andare a fare una missione e quindi farai per sempre per sempre per sempre le missioni ambush o patrono patrono no perché quella nella guerra è ambush quindi ragazzi miei a sto punto tutto prendere un save game e giocare queste missioni perdonatemi però purtroppo non mi fa per forza così quindi sono un po triste in verità ragazzi mi perdonatemi se non sarò mi sento me è beato a te che ti senti meglio mi spiace che vedete magari lo scrivo in un altro modo di mo non so come cazzo vedrete sto video perché è successo un bordello guardate qua non si capisce il cazzo non si capisce il cazzo porco ciuda Robin Hood non è tornato dalla sua ultima missione le voci dicono che sarebbe stato fatto prigioniero nelle carceri di nottingham la donce marian non può vedo un cazzo non posso portare in pensiero che il suo amato vabbè rimanga nelle mani dello sceriffo quindi vuole fare una spedizione andiamo quindi mo tutte tutte queste cose si vedono di merda no porco giuda che cazzo c'è scritto Robin Hood è probabilmente detenuto in una delle prigioni di nottingham a certe vi non sarà facile grazie al pisemma poiché la città è altamente sorvegliata non so come sto facendo a legge senza senza subire poi di percussioni dopo lo sceriffo lo sceriffo ci manca ma manca una parola presente bisogna liberare una cosa per riccardo e anche un po per robin ma non io e il mio flagello non attendiamo che i vostri ordini decisamente sono troppo vecchio cosa c'è laggiù attento a te e poi ti chiamano guerriero qui piccoletto ma va al vostro servizio coseresti batterti contro di me oh pazzi hai paura di una debole donnicciola vieni dunque ad assaggiare il mio flagello bim 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 isolato piccoletto per riccardo vabbè ma il gioco mi ha sminchiato tutto c'è perché si vede una prigione che cazzo punti che vuol dire che mi si vede dentro gli edifici vabbè non si può fare senza di me ed è un'altra vabbè almeno ce l'ha detto però coseresti batterti contro di me che cazzo cosa c'è qualcuno da uccidere colpo segreto ma che non fa male vieni dunque ad assaggiare il mio flagello provatemi quell'imboscato presto ma vai amore chi va là vieni dunque ad assaggiare il mio flagello mostratevi non ti muovo sto trattenendo i miei colpi contento sto trattenendo i miei colpi c'ho intento sono troppo vecchio per poter aspettate aio c'è qualcuno da uccidere non fuggire codardo ma che cosa andati all'attacco ehi tu fatti vedere va bene va bene difendi il per bacco non hai nessuna chance prendi questo per bacco questo è il coriaceo salvo salvo non fuggire codardo non ti muovere sono il migliore ancora vivo vieni dunque ad assaggiare il mio flagello vieni dunque ad assaggiare il mio flagello vieni dunque ad assaggiare il mio flagello ci vediamo quando saranno vivi tanto vieni dunque ad assaggiare il mio flagello ci vediamo quando saranno vivi tanto ok questo vieni qui piccoletto sfortuna della sfortuna magnifico ti ho visto il rumore mamma chai lo farò vedere io fregante prendi ma desolate piccoletto te la farò vedere io non fuggire codardo Cosa c'è ancora? Solo io Arredi qui piccoletto Fa male! Soccorso! Aiuto! All'assassino! Cosa ci fa là? Will Scarlet al vostro servizio E adesso? Ma è morto Arredi qui piccoletto Bandito! Desolato piccoletto Cosa c'è ancora? C'è qualcuno da uccidere? Sì? Sì, sì Io non so quanto vedrete di questa messa Io e il mio flagello non attendiamo per i vostri ordini All'assassino! Soldato! Soccorso! Aiuto! Decisamente sono troppo avversi C'è bisogno di me? Per Riccardo! Signor ufficiale! C'è della gente il signor ufficiale Al vostro servizio Aiuto! All'assassino! Di là il signor ufficiale Mai troppo presto Ci parte Molto bene Il prossimo? Presto detto, presto fatto Sì? Non c'è niente capo Il mio flagello Per qualcuno Eh, boom! Perbacco Lasciamo Eeeh! Zulni d'oro Decisamente sono Lì è stato te Per queste cose Sei una stessa Ti amico in vista Ti tieni alla tua testa? Magno! Fermo là! Vieni qui Brigante Prendo via Ti va Ma chi? Fa male! Non ci può fare senza dirlo Will Scarlet Ho sentito rumore Al vostro servizio Sono qui Manca Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello Vi c'è mancato poco stavolta Perbacco Sono qui Fa male! Guarda qui Gli arcieri dietro Allora bel fusto Dormi bene Pronta Ragazzi non sto capendo un cazzo Cosa? Chi? Vieni qui piccolo No! Fa male! Perbacco Fa male! Sono qui d'oro Ah, che bello Ho terminato Ma come non è qua Robin Hood È impossibile Me ne incarico io Sangue, trippe e budella Ma arrivo Bene Robin Hood è preso Andiamocela a questo schifo di posto Perfetto Mamma mia Si è buggato tutto È andato tutto in fumo Tutto in fumo Ma sapete che cosa vuol dire? Tutto in fumo Voglio Tutto Tutto è andato Andiamo Quindi Per Riccardo E anche un po' per Robin Ma non diteglielo Va bene Arragnieti E ti chiamano guerriero Cosa resti batterti contro di me? Senti questo Riposa in pace Mamma mia Yuhuuu Via via E ora? Non voglio sapere niente Non si legge niente Una tappola dello scheriffo è stata sventata E' tempo di rientrare la scienza Dove festeggiare questa evasione Robin Ancora una volta Robin è adonastuto scheriffo Mamma mia Perché non mi lasciate in pace? Sì? Robin Hood Per servirvi No Maglio è Sono qui E' usceno Per Riccardo Buon prossimo Possiamo fare questa mission Che poi però Ovviamente vedrete Nel Prossimo episodio Se questo video è piaciuto Mettete un mi piace E commentate Noi ci vediamo Su un prossimo video Di Robin Hood E' una situazione Di merda E' un prossimo video